Parlare di tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio continua a perdersi nel vuoto a causa di gesti di inciviltà e incuria di cittadini. Sia nel Vallo di Diano che nel Golfo di Policastro ci si affanna a cercare di promuovere la bellezza dei territori. Purtroppo però, sempre più spesso, ci si ritrova a dover raccontare di casi di rifiuti abbandonati in maniera indiscriminata e totalmente incuranti delle conseguenze e delle ripercussioni gravi su ambiente, salute e paesaggio. L'ultima denuncia arriva dal sindaco di Sapri Antonio Gentile che annunciando la conclusione delle operazioni di bonifica di alcune aree del territorio comunale lancia anche un monito a quanti, in spregio alle norme basilari nella raccolta e conferimento dei rifiuti, abbandona materiali di ogni genere, in alcuni casi anche particolarmente inquinante nelle aree comunali, invitando nel contempo anche ad una maggiore sensibilità sul tema. Le aree che sono state soggette ad operazioni di bonifiche effettuate dall'amministrazione comunale Sapresi, avvalendosi in alcuni casi anche di ditte specializzate per la presenza di rifiuti speciali, sono l'area adiacente al porto di Sapri, località Verdesca, l'area adiacente al torrente Brizzi e località Macello. Le operazioni che hanno interessato le attività di rimozione dei rifiuti e la verifica dei territori interessati, iniziati nello scorso dicembre, si sono conclusi solo in questi giorni, un tempo lunghissimo che impone anche un notevole di dispendio di risorse economiche. L'amministrazione gentile comunque è decisa di impedire che fatti del genere possano ripresentarsi annunciando anche l'adozione di misure preventive. Pare infatti che vi sia la volontà di attivare un servizio di monitoraggio sul territorio H24 che dovrebbe essere affidata ad una ditta specializzata. Si tratta di un primo passo in attesa di provvedere all'installazione di un sistema di videosorveglianza nelle aree maggiormente interessate dagli sversamenti illeciti di rifiuti. Abbiamo effettuato l'ennesima bonifica di aree divenute purtroppo di scariche a cielo aperto, spiega il sindaco Antonio Gentile. Chiede ora maggiore responsabilità e collaborazione, abbandonare i rifiuti è un atto inqualificabile ed incivile, uno schiaffo alla nostra città, un aumento di costi a carico di tutti. Chi ama davvero Sapri, conclude il primo cittadino, non può maltrattarla in questo modo.